Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l'impossibile. Vogliamo che nessuno rimanga indietro. Vogliamo più verde e meno grigio. Vogliamo trasparenza nella pubblica amministrazione. Vogliamo investire sulle piccole e medie imprese locali. Vogliamo nanagni a misura di turista. Qualunque cosa pensiate e sentiate oggi sta creando il vostro futuro. Selezioneremo gli assessori in base alle esperienze e alle competenze maturate. Adutto un randaggio e non paghi la dare. Vogliamo istituire un centro di riciclo per creare nuove occupazioni. Vogliamo individuare una struttura comunale gratuita da di birra a cinema a teatro per tutte le associazioni artistico-culturali. Vogliamo potenziare l'assistenza domiciliare ad anziani, disabili a tutte quelle categorie che più necessitano di servizi socio-assistenziali. Vogliamo tutelare l'area dell'ex-demanio militare e valorizzarla con strutture di fruibilità sociale. Ci avevano detto che non c'era via d'uscita. Poi ci siamo incontrati in un flusso di idee e di pensieri. Non erano né di sinistra né di destra. Guarda le stelle, alza la testa. VINCIATO NOI! VINCIAMO NOI! GRATIS! Ci sono sempre due scelte nella vita. Accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiare. PRINTI Grazie.